Giusto! Ehi! Yuhuu! Aspettami! Tra poco, Alvin and the Cheatmunks! Quando meno te l'aspetti! Ecco che ritorna la Danger Force! Con più pericolo! Più sorprese sconvolgenti! E le mosse più strambe di tutta Swellview! Lasciati travolgere! Dalla... Danger Force! I nuovi episodi! Da lunedì alle 19! Su Nickelodeon! Questa è Lydia! E questa è Julie! Il dinamico duo con una missione! Decifrare il codice della popolarità! Entrambe armate di umorismo, stile e un pizzico di talento scientifico sono pronte a ribaltare le sorti della scuola! Unite via due insuperabili amiche nel tentativo di superare gli alti e bassi della celebrità adolescenziale! Popularity Papers! La nuova serie! Da lunedì a venerdì alle 18! Solo su Nickelodeon! I personaggi dell'ultimo gioco Sonic Superstars stanno correndo da McDonald's! Scopri quanto puoi andare veloce con Sony the Hedgehog e i suoi amici ora in ogni Happy Meal! Allora noi usciamo, eh! Ciao! Quest'anno per fare l'album Cacciatore Panini sarò ti disposti a tutto! Ho dimenticato le chia... Le bustine sono più ricche che mai e con le figurine parlanti ascolti la voce dei tuoi campioni Cacciatore Panini una passione che unisce! Ogni zona ha una sua storia particolare da scoprire anche dal punto di vista gastronomico nuovi episodi a caccia di eccellenze lo special lo show che fa venire voglia di uscire a cena Qual è secondo voi il segreto di questo piatto? Salsiccia tono rosso un po' di campagnolo poi la cucina senza l'amore e cos'è? Alessandro Borghese quattro ristoranti il nuovo episodio domenica alle 21 e 15 in esclusiva su Sky 1 e On Demand Ed ora Alvin and the Chipmunks Questa è Lydia e questa è Julie il dinamico duo con una missione decifrare il codice della popolarità entrambe armate di umorismo stile e un pizzico di talento scientifico sono pronte a ribaltare le sorti della scuola unitevi a due insuperabili amiche nel tentativo di superare gli alti e bassi della celebrità adolescenziale popularity papers la nuova serie da lunedì a venerdì alle 18 solo su Nickelodeon quando meno te l'aspetti ecco che ritorna la Danger Force con più pericolo più sorprese sconvolgenti e le mosse più strambe di tutta Swellview lasciati travolgere dalla Danger Force i nuovi episodi da lunedì alle 19 su Nickelodeon pericolo la Grazie a tutti